seduta solenne del consiglio regionale per il giorno del ricordo come da legge ogni anno il 10 febbraio la repubblica commemora i martiri delle foime un evento ancora divisivo che per dirla come il giornalista toni capozzo come comunità nazionale abbiamo fallito se ci sono queste divisioni l'aula si ferma per la seduta solenne del giorno del ricordo consiglieri compatti nel ribadire il valore di questo appuntamento dal centrodestra critiche sulla narrazione a livello nazionale un giorno senza pace 17 anni dopo l'istituzione per legge la giornata che commemora i martiri delle foime continua a essere divisiva lo è nel dibattito storico e in quello politico una tregua duratura l'ha trovata sotto l'ala istituzionale a ribadirlo il consiglio regionale che ha organizzato una seduta solenne presente guido giacometti referente per la toscana dell'associazione venezia giulia dalmata che ha raccontato chi erano le persone gettate nelle cavità cartiche gente di scuole politiche diverse ma accomunate da una fine tragica sotto lo esterminio compiuto dall'esercito del maresciallo tito a dare una versione di quei giorni anche toni capozzo che in collegamento ha sottolineato la mancata condivisione di una festa nazionale oggi a distanza di quasi 20 anni dall'istituzione del giorno del ricordo affermato il giornalista è inevitabile dirci che in qualche cosa come comunità nazionale abbiamo fallito non abbiamo fatto una giornata condivisa nel rispetto del dolore anche quando è un dolore degli altri tutte le storie sono possono essere molto complicati anche molto semplici la cosa fondamentale come ha detto churchill è caduto una cortina di ferro che è partita da stettino sul baltico fino a trieste sull'adriatico quindi noi siamo stati gli unici di lingua italiana che siano rimasti in massa al di là della cortina di ferro e come da tutti i paesi in cui c'è il comunismo la gente cerca di andarsi noi abbiamo avuto un privilegio che il il trattato di pace l'articolo 19 prevedeva che quelli di lingua d'uso italiana potessero andar via credo che ancora oggi venga vissuta e occasioni come quella che poi avete organizzato per fortuna vanno controcorrente ancora come una giornata di parte insomma che non appartiene a tutti che anzi addirittura eccite e risveglia quelli che vengono chiamati negazionismi allora io mi sono chiesto molte volte perché io non ho appartenenze politiche e che non la vivo appunto come una giornata di parte mi sono chiesto molte volte perché probabilmente perché è nata l'istituzione della giornata è stata è nata su proposta di partiti di destra credo che sotto gli occhi di tutti che a lungo le uniche formazioni politiche che sono state vicino agli esuli sono state le formazioni della destra italiana e questo non sarebbe stato io credo una pretesa assurda chiedere agli esuli che scacciassero allontanassero da sé gli unici che per molte ragioni la politica spesso a molte ragioni gli erano stati vicini ad ascoltare le loro parole Antonio Mazzeo presidente del consiglio regionale il non riconoscere ciò che è successo ha detto il vertice dell'assemblea toscana non è più in sintonia con il sentimento della nostra comunità nazionale che ha fatto propri quei lutti e quelle sofferenze al suo fianco eugenio gianni fino a qualche anno fa c'è stata una tendenza a non andare fino in fondo ha detto il presidente regionale anche perché si mischiavano aspetti ideologici che portavano partiti importanti del nostro paese non tanto a ignorare ma evitare intrecci la giornata del ricordo è stata importantissima il 10 febbraio perché proprio il 10 febbraio di 75 anni fa fu firmato l'accordo il trattato di pace tra l'italia e le altre forze alleate che poneva fine alla guerra questo è il motivo per cui si ricordano la tragedia i crimini gli orrori che tanti italiani subirono in quegli in quegli anni e le atrocità della guerra l'odio che ha segnato il novecento non può passare inosservato non ci si può voltare dall'altra parte c'è chi continua a dire e vale per la shoah ma vale anche per le foibe che tutto questo non è mai accaduto ecco io penso che un'istituzione come la nostra non debba voltarsi dall'altra parte debba ricordare perché quello che è accaduto non accada mai più io prendo in prestito le parole del presidente mattarella che lo scorso anno insieme al presidente sloveno mano nella mano la potenza di quel gesto no mano nella mano ci ha mandato un messaggio forte che le sofferenze i lutti lo sradicamento sociale e culturale che avvenne in quel tempo non può essere dimenticato e oggi qui faremo il consiglio regionale esattamente questo perché la memoria il ricordo servono a fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più la giornata del ricordo istituita con legge il 10 di febbraio oggi è stata solennemente ricordato nel consiglio regionale perché è una testimonianza fondamentale quello della memoria perché gli italiani sappiano quello che è accaduto che probabilmente 11.000 loro connazionali sono morti gettati in questi cavità carsiche dette foibe e che tutto questo avveniva nel momento in cui un esodo di 400.000 persone veniva a essere a costringere gli italiani a uscire da quelle terre pensate che fu proprio il piroscafo dal nome toscana che rimane emblematico dell'esodo appunto di 400.000 persone dall'istria dalla dalmazia io penso che sia molto importante ricordare che quella parte d'italia dante ricorda proprio nella divina commedia nel nono canto dell'inferno l'italia come un paese dalla sicilia a pola sia oggi sempre caratterizzata in un'epoca di pace comunque dalla necessità di pensare agli italiani che furono costretti dopo la seconda guerra mondiale a venire via e purtroppo se non venivano via le foibe erano la destinazione per coloro che entravano in conflitto almeno il fronte interno è unito se fuori il giorno del ricordo continua a far discutere dentro il palazzo del pegaso non solo i livelli istituzionali ma anche le forze politiche hanno dimostrato coesione certo non è semplice separare il dibattito da quella che è la scuola di pensiero abbinata alla corrente politica tuttavia da destra a sinistra tutti hanno sottolineato l'importanza di questa giornata lo hanno fatto perciò federica fratoni del pd stefano scaramelli di italia viva silvia noferi del movimento 5 stelle assolutamente importante la giornata odierna come ogni giornata di celebrazione a partire dal giorno della memoria nel giornata nelle quali si compie una riflessione attenta su quella che è stata la storia recente sui pericoli che se dimenticata possono incorrere anche nell'attualità che viviamo in particolare oggi devo dire abbiamo assistito a due interventi molto alti molto interessanti di toni capozzo di guido giacometti con le conclusioni del presidente gianni che hanno dato anche una ricostruzione storica interessante e comunque la lezione di fondo che è quella per cui in un periodo storico ben individuato dilagò questo virus del nazionalismo come è stato ben definito e ben descritto che portò alla persecuzione delle minoranze questo ci dice ancora oggi che le discriminazioni devono essere combattute sappiamo che ancora oggi in tante parti del mondo questi fenomeni queste operazioni assolutamente da contrastare comunque avvengono e quindi questo ci richiama anche una responsabilità quotidiana che sta sulle spalle di ciascuno di noi e questa è l'importanza di questi momenti nei quali viviamo il monito solenne del ruolo che ricopriamo ma anche della responsabilità che portiamo come cittadini nella nostra vita quotidiana giornata del ricordo una giornata importante in cui il consiglio regionale si ferma e prova a in termini istituzionali a fare del ricordo di quello che è successo nelle foibe un momento di unità non soltanto della regione toscana ma del nostro stato sono quelle giornate importanti fondamentali che consentono di stringersi intorno al ricordo di tante vittime a un sacrificio che che è costato la vita a tante persone in gran parte dei casi innocenti e questo deve portare una grande riflessione soltanto così si ricostruiscono le basi le fondamenta dell'unità nazionale e credo che questo sia importante ogni anno che il consiglio regionale si fermi e possa ricordare quanto accaduto l'importanza è indiscutibile anche perché per troppo tempo questa storia questo momento doloroso è stato oscurato dimenticato ignorato e anche quando è stata istituita la giornata del ricordo poi è stato un momento più di contrapposizione che di riflessione su quanto accaduto l'importante sarebbe non dimenticare mai di nutrire umana pietà cosa che è sempre più difficile in questa società oggi abbiamo ascoltato parole non di contrapposizione ma di cordoglio di sincero dolore e partecipazione e questo mi ha fatto veramente molto piacere perché anche nelle mie precedenti esperienze istituzionali non sempre è stato così quindi sono contenta che finalmente si arrivi a una celebrazione molto più pacata e sentita come deve essere opinioni che non hanno trovato troppa distanza da quanto espresso tra i banchi del centro-destra anche se Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia e Marco Casucci della Lega si sono soffermati sulle polemiche di questi giorni meno acceso l'intervento di Elisa Tozzi del gruppo misto che ha rimarcato l'importanza della memoria l'importanza di ricordare il sacrificio dei 300.000 esuli che al termine della seconda guerra mondiale furono costretti da un giorno all'altro ad abbandonare le proprie case, le proprie terre natie i propri effetti e con una valigia di cartone dover partire alla volta dell'Italia per non finire trucidati dalle milizie partigiane titine e credo sia sempre più un dovere dispiace notare purtroppo che ancora evidentemente il nostro paese nonostante dei gesti bellissimi li ricordava oggi il presidente Mazzeo, ricordava per esempio il presidente della Repubblica Mattarella che mano nella mano con il presidente della Repubblica Slovena lo scorso anno vanno a rendere omaggio ai caduti sulla foiba di Vassovizza nonostante questi simboli che le istituzioni continuano a regalarci purtroppo il nostro paese non è pronto a celebrare questo giorno, ci sono ancora in tutte le città d'Italia da nord a sud convegni negazionisti, professori, docenti universitari, rettori e in Toscana non a caso sottolineo la parola rettori, di università che ancora continuano a dire che quei crimini non sono mai stati perpetrati o peggio li derubricano a una mera ritorzione legandoli chissà come chissà perché al periodo fascista. Il giorno del ricordo, così come la giornata della memoria, ci invitano alla riflessione di quelle che sono state delle pagine dolorose, delle tragedie come l'olocausto Auschwitz e in questo caso quello che è stata la pagina delle foibe per l'Istria e per troppi italiani. Noi dobbiamo concretizzare il ricordo. Ecco perché sono particolarmente contento di aver dato il mio contributo nell'indicare il nome del referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Giuliano Dalmata l'ingegnere Giacometti che ha ricordato bene quello che è stato il dramma delle foibe il dramma di Jesodi, il dramma di quella che è tutta è stato veramente un momento doloroso per l'Istria e per questa parte che era d'Italia. Non dobbiamo dimenticarci, dobbiamo portare avanti il ricordo in modo concreto ma soprattutto cercare di rendere, di fare sì che queste pagine possano essere veramente di tutti perché troppo spesso ci dividiamo ancora su basi ideologiche e noi dobbiamo essere contro, fermamente contro chi fa del revisionismo perché così come per la memoria anche per il ricordo devono essere delle giornate di tutti. Leggo a volte commenti ma anche comunicati che non mi piacciono per niente e questo lo devo dire con molta chiarezza. Io credo che seppur riconosciuta tardivamente la vicenda dei nostri connazionali, istriani, dalmati che hanno vissuto il dramma delle foibe sia come dire un segno di civiltà come ha ricordato anche il nostro Presidente della Repubblica. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di preservare quella che è una verità storica quella di una tragedia che al pari dell'Olocausto ha segnato la storia del Novecento e che appunto richiama tutti quanti noi a non abbassare la guardia su vicende che purtroppo hanno segnato tragicamente il nostro secolo.